Presidente Marchesani, è arrivato Calvani, nuovo corso per chiudere al meglio una stagione nata non benissimo. Nata non benissimo sì, è chiaro che poi in questo momento va il mio ringraziamento a Coach Maffezoli che come dicevo prima in conferenza stampa ha fatto tanto per noi sin dall'anno scorso raggiungendo un sesto posto storico e i quartieri finali playoff. È chiaro che poi la stagione è andata come è andata, comunque sia bisogna rimarcare il fatto che ad oggi Chieti è salva anche senza fare i play out, però in un momento dove sia io che la società ha notato che nei giocatori c'era un senso di vuoto chiamiamolo così, è chiaro che bisogna dare una sterzata all'ambiente, al gruppo e abbiamo deciso appunto di puntare su Coach Calvani che è un allenatore molto esperto con un palmarès molto importante che potesse dare ecco una grinta, uno sprint in più per questo finale di stagione a tutta la squadra. Che cosa chiede a Calvani e se è un accordo solo per questa stagione o già c'è un'opzione anche per la prossima? A Coach Calvani lui già sa benissimo che chiediamo la salvezza o quantomeno ecco di rimanere nella posizione che occupiamo oggi. Per quanto riguarda il contratto con il coach è un contratto fino a fine stagione dopodiché ci si conosce ed eventualmente poi se ne parlerà dopo la finale di stagione però la cosa più importante è conoscersi e capire se noi piacciamo a lui e se lui piacerà a noi per tutto quello che sarà. Coach Calvani intanto benvenuti in Abruzzo, benvenuti a Chieti per chiudere al meglio una stagione Chieti ha bisogno, ha detto il Presidente, di un cambio di marcia. Ma sì, queste sono situazioni strane che quando capitano non vai a valutare quello che è la qualità o la capacità del collega. Tra l'altro con Massimo ho condiviso tanti anni insieme di lavoro e quindi so benissimo non solo della persona ma anche del serio professionista che è. Quando succedono queste cose purtroppo si sa che capita all'allenatore che paga dazio per quello che è una situazione dove cerchi di dare un cambiamento a qualcosa sperando che appunto questo qualcosa possa accadere. Quello che riguarda me sono un mese e mezzo di lavoro otto partite considerato la fase regolare il giro nell'orologio per cercare di dare garanzia a quello che è il mantenimento del titolo e questo deve essere l'obiettivo, io ne ho consapevolezza altrimenti non sarei venuto, è un impegno difficile, complesso e questo deve essere anche la consapevolezza che devono avere tutti quanti, giocatori e nonne. Le chiedo una cosa per chiudere sull'organico che ha a disposizione perché è un po' strano in a due vedere due americani entrambi nello spot di lungo e magari una squadra un po' corta negli esterni. Che tipo di basket vedremo? Quando parlo di consapevolezza devi anche avere coscienza che se hai due stranieri in quel ruolo devi cercare di usarli il più possibile e quindi con la squadra già abbiamo parlato di questa cosa ne dobbiamo essere coscienti il potenziale dei due stranieri a livello di Lega 2 è un potenziale che deve fare la differenza e quindi qui c'è consapevolezza da parte di tutti quanti e senso di responsabilità dai diretti interessati però lei mi insegna a livello storico che non è certo, sono due che ti risolvono tutte le castagne dal fuoco quindi nel concetto di quello che è un lavoro di team e di squadra come quello della Pallacanestro tutti quanti devono essere coinvolti anche l'ottavo, il nono e il decimo devono essere pronti nell'esigenza di entrare in campo e dare la loro parte. Viva lupo, grazie.